Sono in corso da due settimane i lavori di potenziamento della rete idrica portati avanti da Marche Multiservizi all'intersezione tra Via Giolitti, Via Belgioioso e Via Fratti. Una problematica che comporta diverse criticità alla circolazione stradale che è stata deviata già da diversi giorni e già in passato nei mesi scorsi era avvenuto con diversi step di lavoro a Stralci, ma da oggi c'è una problematica in più. Infatti in questo martedì 26 luglio è stata comunicata l'interruzione dell'erogazione dell'acqua o di eventuali cali di portata o di pressione delle condotte idriche per quello che riguarda una cospicua fetta di Via Giolitti, Via Belgioioso e Via Madonna di Loreto. Una difficoltà soprattutto per i commercianti di Via Giolitti che lamentano in particolar modo la scarsa comunicazione di questa interruzione dell'acqua. Fatto sta che l'ordinanza è firmata 22 luglio ma come ci raccontano i commercianti l'avviso a loro stessi è arrivato soltanto ieri mattina con comprensibili disagi per il loro lavoro. Noi ieri mattina, lunedì, siamo stati avvisati che oggi non ci sarebbe stata l'acqua e per noi è un disagio grosso perché avendo un'attività del settore alimentare senza l'acqua non facciamo niente. Poi leggiamo nel comunicato che ci è arrivato ieri mattina che riporta la data di venerdì noi un attimino ci siamo arrabbiati perché come voi lo sapete da venerdì non ci avvisate in tempo per questa interruzione. Per loro sarà una cosa normale ma per noi no. Si tratta di lavoro che non è avvenuto stamattina perché io e i dipendenti che ho li ho mandati a casa perché non sapendo quando si sarebbe interrotta l'acqua noi non abbiamo potuto lavorare e quindi anche le forniture che dovevamo fare questa mattina, le consegne per i vari clienti, supermercati, alimentari, non le abbiamo potute fare. Mancato guadagno anche quello lì. Il bar qui a fianco a noi la stessa cosa dice io senza l'acqua cosa faccio? Ci siamo un pochino organizzati con le taniche le varie cose però non basta. Nel settore alimentare soprattutto non è possibile perché l'acqua è una cosa fondamentale come anche la luce. Però se loro ci avessero magari avvisato o venerdì oppure sabato noi avremmo invertito i giorni, i nostri lavorativi ci saremmo organizzati diversamente senza avere tanti disagi. E dunque c'è chi lavora cercando di arrangiarsi, c'è chi ha dovuto rinunciare a dipendenti o alcune comande o c'è addirittura chi ha preferito rimanere chiuso visto l'assenza di acqua come bar o pizzerie? Non c'è stato dato il tempo, cioè l'avviso è arrivato va bene però te lo sapevi già da venerdì, avvisaci prima, avvisaci venerdì, sabato, manda un comunicato e tanto lo sai qual è il settore, qual è la zona. Addirittura di lunedì che qui ci sono i parrucchieri, le estetiste che lunedì sono chiuse, quindi si sono ritrovate se non le avvisavamo noi per un passaparola nostro a livello di negozianti. Stamattina si sarebbero trovati praticamente così un po' in bilico, senza diciamo nessun avviso. Questo foglio appeso lì davanti al negozio e basta. Quando avvengono queste cose è sempre spiacevole, nel senso che se la rottura è il giorno stesso ovviamente non si può fare niente perché non può essere programmabile, perciò il disagio lo devi comunque calcolare. Ma in questo caso penso che voglio dire il lavoro era già stato programmato con anticipo per tempo, penso che con un anticipo di comunicazione sul fatto che non ci sarebbe stata l'acqua sarebbe stato sicuramente molto piacevole per noi e non avrebbe creato questo disagio. Lo sapere di lunedì, giorno di chiusura per noi, che il martedì non ci sarebbe stata l'acqua per noi è stato un disagio anche perché l'ho saputo attraverso un mio amico, io non abitando qua in zona, perciò abitando fuori comune, mi ha avvisato così in maniera tardiva con un messaggio whatsapp a un amico mio che è passato qui per caso e mi ha detto guarda che domani non c'è l'acqua perché appunto c'è questa interruzione e perciò noi già avevamo la giornata programmata con i nostri appuntamenti già dalla settimana scorsa e perciò mi sono dovuto organizzare diciamo in maniera approssimativa con un po' di tanniche di acqua e quant'altro che ho trovato a casa. Sono venuto giù stamattina appunto aprendo il negozio sperando appunto che l'acqua ci sarebbe ancora stata per un po' ma purtroppo abbiamo dovuto dirottare alcuni appuntamenti alla giornata di domani e dopodomani, quelli che siamo riusciti, altri purtroppo abbiamo dovuto rinunciare ma per il resto insomma questa è stata una giornata un po' complessa sì.